Grazie. Grazie. I don't really like it. I'm finishing up. Okay, we are live. Grazie 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 La prima cosa inizia è iniziare con la scuola che con voi E questo è lo chiamato Climbing System Per esempio, per esempio, per il nostro sistema Inizia che il sistema è iniziato a delle componenti o componenti, cioè delle componenti e le componenti si trattano con alcuni è uguale a tutti e questo è uguale a tutti e la città un esempio vedete le strane per le strane se fosse il sottile o il sottile o il sottile o il sottile come le ponte come le ponte o le ponte che sono stati di fuoco di giallecchia o che potrebbe essere di solcani che sono stati che hanno un'inserio o cose come queste quindi sono stati in la strada dell'arriza anche il riever il monar il gabbè sono stati che hanno un'arriza che hanno un'arriza nel strada dell'arriza La secondazza dell'arcrizione, come l'anno ora sulla dell'arcrizio, è il Cuerra dell'arcrizio L'arcrizione che abbia mai lunghi di un attività in l'arcrizio La flotta dell'arcrizio è una distanza più grande C'è un po' di un po' di un po' di un po' che abbiamo parlato di atteggiare la stagione La stagione di Soudan è verificata un po' di atteggiare per esempio per esempio in un periodo come questo giugno, augustus e settembre quindi settembre una storia di atteggiare la storia le reali del mondo c'è la realità che si chiede la realità che è la realità che si stia dalla regione che si stiava da Europa e anche da le realità che si stiava da una realità che si stiava che stiava dal mondo quindi questo è una realità che si stiava in questo caso andiamo a reacciata fasi al madari sono un rioia una rioia grattiva molto buona per il rioia è un rioia e ci yudiamo quindi queste dom parole sono le domande che Da come dire ha che è il 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 La modo da distrambale anzolata Se lo preghierebbe a fare il rio In una settimana a él走了 L'arriere del rio Le rio si voletevi al rimasto A l'assoe L'assoe A la stella È la materia Il caso dell'elemento l'asso Ok, per la parte del Il cibo di Soudan Non è vero il ciò che succedono in questo periodo E ci sono stati di noi, per esempio, del periodo del periodo Per esempio, il periodo che si vedi a noi è un periodo del periodo del periodo Il periodo del periodo ecco che tutti i giorni hanno un'espo di dibattere a la manacca in diverse Forse, i due settimane, sono stati a chiama il centro e l'america del centro Ci sono stati due centri di diretti che si chiama Nino 1 e Nino 2 Nino non è una parola in spagnolo, ma qualcosa del nostro lavoro che si chiama Con quelli si fanno la scuola e la scuola che si succedono nel momento del progetto Per un po' di un po' di un po' di un po' di un po' Per un po' di un po' di un po' di un po' Per un po' di un po' di un po' di un po' Per 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 un po' Per un po' di 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 un po' Per un po' Per un po' di 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 un po' di un po' Per 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 un po' La città della città che si è riuscita per la città di parte del Pacifico Ma la città un ri 好so di la città di Qigl madera Ciò di un riage più grande, qual Si è in una città come diceva Qui è in un riage, via il Pacifico Ma città un riage che si è aicale, sdraperà il sudan male C'è qualcosa di più vicere, la città di una città di una città ma Qui ci ha fatto la ricetta del metodo E' dato che ci sono stati Ciò che ci vediamo Questo è stato il metodo E' questa è la prima venta Anche le esperti E' la prima venta La mia volta non è scoperta Non è scoperta E' la prima volta che ci vediamo In questo metodo Ciò che ci vediamo Ciò che ci vediamo Per conto che ti pari Tariqiyan, l'alaghe ma bein al-mattar Ma bein al-qa'ad-ih-sal-fi al-pacific Ma al-shakil al-giddan kun da Al-al-fatto, l'ol-l'onu azraq Dei biorri al-mattar haqq al-sudan O-wasit al-sudan Fa-mi-kira-da, min-sana al-thamaneen L'hadda al-fein O-sit-a-ser Fa-al-fatto al-azraq Bit-shu-fi n'u zayl mud-a-kis Ma al-al-fatto al-ahmer Li huo biorri al-dariyat al-harara haqq al-sudan Jani, l'mman al-mattar yi kun galiil Au, l'mma ykun dariyat al-sudan al-bahar Daafia, hinaak, fi l'mancti-diik Mencti-tel-pacific Bin-kun inda nandana a-mattar aqqalha Min-a-mattarsit, aw bi-kun inda nandana hala agarib L'hij-jafaf adil, yaani L'hij-jafaf betta 84, el-shahir daak, 83, 84 Diablabla Aqqalha haqqq al-assit, ma yukun da takali , dha beginziil Wafii sianawati mahtalaf fani Tanih inda k Maaximahina mazalan, aww hatifahina, aw minimahina Wahaakaazza e questo è successo in Soudan, non è successo in modo a fare la faccia di sottolineare l'era da un amico, il mio amico e il nostro amico, il mio amico questo è un tema di risposta o di risposta senza fino allo a Soudan, ma anche in Soudan la regione del Nile Nile del Azrec, la regione del Sibia come la città, la città del S strokes del congresso e allora puoi vedere anche il tipo di trascendere quando il parere del scribo si al parere del Srodesco di Ammatoria il parere del Sos피 del Spirito è salita il parere del territorio di Ammatoria il parere del tribù di Ammatoria sulla città del Sudano e la zona del Soubia o la zona del territorio la zona del S che voglio dire di come la città del catchment e l'Agera Quindi è il historico Il link In between le motore E l'hospital Adesso lo stesso Non c'è un incontro Non c'è un incontro Il nostro incontro Il nostro corso Qua è il corso Il corso Il corso Adesso E il modulo del nodo delizio Giuseppe perché magari era una possibilità di risultare del risultato Questo è il primo inugno o fino a qui Quattro di risultate Quattro di risultato Significate Quattro di risultato Numerical ma che ha fatto il muo del il muo del per l'acqua per l'acqua e'll'acqua poccia c'è la scena ma proprio come ho detto una stagione che finalmente il muo del muo del collo almeno il muo del collo non è detto e la città di più C'è questo punto che è un punto di riuscola è un punto di riuscola quindi non è possibile per fare per riuscola per riuscola questo è il punto di riuscola per esempio in maio in july in riuscola per riuscola se la città di riuscola C'è un'amptare anche per le monarote le scuole, quindi nel sudrò il sudrò il sudrò il sudrò E c'è un'amptare che fino a quando viene a un amptare, questa è una città in Gioon Ci sono due cose in Sudano, quel tipo di sudrò il 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 sudrò di Dharford e in aziende del territorio di tutto questo è un'attarare molto alto in questa fase e la parte del territorio è bella ma è un'attarato ma è un'attarato per la causa delle problematiche Ok, questo è il settore del settore in cui abbiamo fatto in questa parte del territorio farbare un un ruone per fetture come un ruone per 10 giorni un ruone per il perello per il paio fare un ruone per 3 Questo è l'argomento che ha sbagliato con l'argomento e l'argomento E' un'argomento che ha sbagliato con l'argomento Questo è l'argomento che è stato già in giugno quindi non è stato una seconda di settimana perché non è stato un forcast è un forcast che c'è stato un forcast questo è un forcast al juli quindi non è stato un forcast che il metro sarà più alto il nostro forcast che si chiama il forcast Forecasts per la qualità quindi ti metti l'ehtimali per ogni momento per esempio ti metti a l'ehtimali e metti a l'ehtimali o a l'ehtimali o a l'ehtimali Dopodich noi facciamo un'ehtimali Il primo è il primo quel'ehtimali era il primo l'ehtimalià l'ehtimalià per un'ehtimalià a un'ehtimali Di uno dei dalti ci sono un'ehtimali iniziò della faccia è una cosa che tutti nel settore ci sono il passato ci sono aziende in questa storia meglio questa è una storia in cui è stato un'ehtimali il passato in Ungolio Questo è il forecast per agosto, il che è stato un'automobile Questo è il forecast per agosto Per esempio in giulà, il forecast per agosto Il che è importante in agosto E' il che è il settore del settore Il settore è il settore del settore del settore Ma c'è una cosa che si accerci dalla città di Soudan Per molti sono stati in grado di Soudan Quindi quando hai un settore del settore Il più settore dal settore in grado di Soudan Il teore di credo che il settore di soudan Per questo è una cosa che mi interviene Trasera che gli altri Siamo gli altri atti di grado di un settore Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 La prima cosa è che la gente prendono il modo in un modo e svolto Dopo il settembre Ci sono stati in Soudan Il settembre Il settembre Il settembre da settembre a 1 novembre, l'estiché il metro è vero che sarà un'unità di metodo e questo è un problema di quanto riguarda il nostro paese, perché il nostro paese è arrivato a questa se c'è una bordo o una scuola, si è arrivato a una gomma a una volta del anno quindi il momento è riuscito a un'estiché, si è arrivato a un'estiché, si è arrivato a un'estiché e si è arrivato al'estiché in un'estiché, dopo che è arrivato a un'estiché Quindi ho trovato molto più iniziale Il nostro corso di un'autore di più che ciò che siostrano all'estero a chi siostrano a settembre o a settembre Non c'è un'autore di un'autore di un'autore di Soushidani Ma non è un'autore di un'autore di un'autore Ma se fosse un'autore di un'autore Oggi il'autore di un'autore di un'autore Questo è un'autore come ho detto, il primo è il primo il primo è un primo è il primo e il primo e il primo il primo il primo come rappresento è stato già fino a in giunio ho detto che il primo è molto è molto bello per il cibo ma potrebbe essere un po' perché cibo il cibo potrebbe essere attraversato e lo sanno per la cibo e lo sanno e lo sanno per fare le cose e la cibo il cibo e il cibo il cibo che non si vengono a fare le cose ma è un po' Ma in questo modo, il mese è molto bello ed è molto bello e quando si resta in questo periodo di settembre e ottobre questo è anche una nuova eccezionale Per esempio, il mese è molto bello se c'è un mese è molto bello questo è un mese molto bello perché è molto bello E' un pizzer Cosa di questo A quanto riguarda le firme Ma la rotonda E' un pizzeria Che succede dal giorno E' un pizzeria E' un pizzeria Di avere un pizzeria Per quanto riguarda il fondo e il settore qualità di riusciare e la quale si trova un'automale la quale è stata questa quale è stata finito questo anno e la quale si trova un'automale è stata un'automale che si trova, un'automale questa è la quale si trova un'automale e si tratta di una parte o si tratta di un'automale quale io in un po' di chants morti, sto spiegando solo di questi sindici e gli da ciò che non stanno facendo un risultato, o scegliere i risultati o qualcosa di risultato e di relazione grazie a tutti dr. forse davvero un complice e ma è una storia importante e iniziare un'esprete e una storia del momento che è un amico una storia che è un'esprete a noi con noi Inizia il zoom Non si è finito l'anno o non si è finito? Non ho finito l'anno, ho finito l'anno Ma ho finito l'anno per essere interactive Perchare le persone a share con le asiglie E così, non ho capito Se c'è un sessore O 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 se c'è un sessore Posso la faccia del raise hand O se c'è un sessore Dottor Anwar, merhaba Alaykum wa salam, è il com'è il mio ragazzo O se c'è un sessore O se c'è un sessore O se c'è un sessore Tissure Oubbaker 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 Grazie La scheda, c'è una delle schwriche Non covert No, la Și fate un lupo di compartir Pizarro Eh qua Questo è una delle qualità che noi stiamo utilizzando, per esempio, in quanto riguarda la dinamica che ha avuto in quanto riguarda l'aglio dell'aglio dell'aglio dell'aglio. E questo ciò che fa si contiene assaggiare le discussioni, quello che fa questo te faccia l'aglio dell'aglio 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 dell'aglio, quello che si tratta la famiglia dell'aglio dell'aglio di Gherba è un rio edgingo di un altro e dal frasso l'automale perché ci sono gli struttinati ma dopo aver det10 che entrava fuori attraverso il rio di regione quindi si trattava a P motivi al riso di regione quindi si trattava a P motivi si trattava a P motivi quindiEC a cui trattava al rio di regione sono sempre inoltre Questo è stato fatto nel 1988, l'anno che aveva un po' di Quraafi in Soudan e che aveva un po' di Quraafi L'anno che aveva un po' di 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 un po' E' un po' di un po' di un po' di un po' di un po' quindi Come a DR, l'interno. ed è upvince mentre ho l'interno di un po' di un po' di un po' La dimensione della Kさol plein aceite di un po' di un po' che aveva un po' di un po' di un po' di un po' Il terreno del sottotitolo Il riconosco è scontato ma In queste persone i sono i esercizi a tutte le riconoscizioni Il terreno Per esempio Il terreno Il terreno a la trombolo Quindi ogni parte Bé se facette Il terreno C'è quello che hai già visto Per cui ci si può andare a segnare Il prima di quando si capisce il cao di salire Le pelle è il caso di solito Come si succede anche se Il prima di che il cao di salire Va più a più scegliere Si c'è una regola verticale La regola è un'attesa La regola è alta La regola è alta Vota la regola è alta Comanda a correre La regola è alta Inizia la risoluzione Ci sono andati quindi il problema che succede dopo il mottor è che si tratta di un mottor Il movimento La scelta è come un'altra scelta Sottotitoli e il momento in la regione del Pacific non riesce a spostare e la storia quando si spostare è iniziato a un mottor come l'historica la corrisione la corrisione la linea blu che è il raiolo nel sudan e il raiolo in sottile in la Pacifica quindi vediamo che in caso di una situazione mentre all'arriolo si trovi il raiolo si trovi il raiolo si riempire il risultato o non si riempire e invece di più quando il risultato si riempire il risultato e questo per la parte del sudano e per la parte del sudano e per la parte del cazzo o per il cazzo anche qui è un graf di una cazzo e anche per la parte del cazzo Il nostro corso gratuito è che il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info È il nostro corso gratuito in Sudano e il risultato è che il metro di cui è stato un po' di più è un po' di più ma non è un po' di più ma non è un po' di più e come ti dicevi, è un po' di più inizia la vita e la prima parte di Kharthum e la giornata e anche la zona è un po' di più Il risultato per il giugno Il risultato per il giugno di settembre E' un'euro in giugno E' un'euro in giugno Il risultato per il giugno E' un'euro in giugno E' l'euro in giugno Si e' un'euro in giugno E' un'euro in giugno E' un'euro in giugno E' un'euro in giugno Il risultato per il risultato per l'espa Per l'espa Un uomo Per l'espa Pec Poi E' per la seconda. Quindi potrebbe essere spagnolo Pagliare il risultato di Settembre Potrebbe essere spagnolo Pagliare i soldi Fanno il risultato La quantità di città potrebbe essere efficace Per esempio, per il risultato E per la città Per il risultato Per la città Pagliare in modo Ci sono tutti i fiori di loro, ma il corso è un corso Ma il corso di una situazione di un'altra, se fosse un'unica, se fosse un'unica, se fosse un'attività, se fosse un'attività Se fosse un'attività, se fosse un'attività, se fosse un'attività di un'attività Ma questo è un'attività di una settimana, senza essere un'attività Questa è l'acquilazione del qualsiasi che ho avuto Ok, questo è un problema con il cambiamento del mondo allo stesso? Non, non è necessario Questo è un'attività di un'attività Il che si tratta in un'attività di un attività è un'attività di 7 anni Quindi l'attività di un attività che ti ricordi qui è un attività Per esempio Day 2016 Quando il principio del 2016 fu un'attività di un significato fu una creazione欸ziana fu un'attività però a valutare delle amiche fu un'attività di risposta e il corso che il risposta un'attività Il si tratta d'attività di un'attività fu un'attività di un'attività nel primo luogo allo stesso e quasi quasi 2.3 in un aumento del territorio del territorio del territorio e quindi si tratta la scelta per ogni 7 anni questa è una scelta e si arriva in un'escalante e si arriva in un'escalante e si arriva in un'escalante è una scelta la scelta l'agliente non è possibile in un'escalante credo che ci sono dei più della storia di l'agliente ma questa storia è più grande in una storia di l'agliente questa è la storia di l'agliente in una storia di l'agliente in un'escalante in un'escalante in un'escalante ...e questo si può evitare il fiorezza della Settela di Preghezza che 안녕amente ...e questi affronti sono tutti in luglio dal Praia di Preghezza di Preghezza di Preghezza Чiesa è vero che il florezza delle stastro ...��을 evitare delle situazioni che in countries' sviluppate ...in una dicha più grande problematica ...el referenza che il conflitto è quello del Trasso di Preghezza di Pregheria ...e quello che si avrete vede anche per il ritardo di Preghezza di Preghezza di Preghezza di Preghezza di Preghezza di Preghezza In tempo 1850 all'esterno Ma l'anno necessitario di una domanda di risposta Hanno spiegato il risposta del risposta Oggi sono state delle ricche? Oggi sono state di risposta nel risposta In Soudan non c'è una domanda di risposta Questo è stato un risposto di risposta Anche in un'altra parte di un'arico di un'arico di un'arico di più La Soudana è necessaria a essere in un'arico di un'arico La scelta o la maggioranza che sono in un'arico Potrebbe essere un'arico di una scelta Per esempio, un'arico di un'arico di un'arico di un'arico di un'arico C'è un'esplice che si tratta di una strada di un'esplice La riduzione del risultato e la riduzione del risultato Può avere un'esplice molto più importante in una vita di Soudan In un paese, come in Nairobi, quando il risultato di un'esplice, la riduzione del risultato Per esempio, in un paese, si trova il risultato con il risultato di un'esplice Grazie a tutti C'è un bel duffac, una borsa più semplice quella della like? sì, è un bel Mentre mia figlia, ho cominciato a te, ho capito prima di me ricordare qualcosa che avevamo a fare visto prima del settore ma ovviamente la loro stagione non è stata un paese, non si è stata un paese Per quanto riguarda le persone dell'estima per il risultato del risultato per il risultato per il risultato c'è un'analisi per il risultato per il risultato per il risultato il risultato e il risultato che sono un'immagrazione per il risultato in questo senso il risultato il risultato per il risultato il risultato il risultato che sono anche il risultato che si il risultato il risultato per il risultato il risultato il risultato per il risultato 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 ma bisogna il risultato ma un'unico che abbiamo per esempio qui all'unico l'unico l'arab il risultato il risultato il risultato un risultato ci sono che l'arab le risultato l'arab Infine c'è la grande parte del marco Non si qu'è più forte Quella parte del marco Ha già da parte del marco Di ogni parte della creazione La parte del marco Per esempio, la regione dell'Arabia è la più grande in 15 anni e anche la regione dell'Arabia è la più grande in 20 anni Quindi questo potrebbe essere seguito a quello che ha detto se è stato un po' di risposta se è stato un po' di risposta questo potrebbe essere un po' di risposta che si è un po' di risposta e io sono molto felice perché il risposta che il risposta è un po' di risposta è un po' di risposta ma è riuscita ma anche se sono un po' di risposta ma è un po' di risposta l'indiance 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 è una fase di positivo ora è un po' di risposta è un po' di risposta negativa non negativa in 1888 era molto forte non sono adesso non si è un po' di risposta ma è un po' di risposta l'intero di l'indiancizio con il situazione in qualche modo se non si è un po' di risposta l'indiancizio il indiancizio non è stata una situazione con l'indiancizio con l'indiancizio dell'indiancizio Il Daya, la Daya, il Daya, è stato un oponente di Daya Non ho fatto la storia, ma è riuscito che l'inizio è ancora più della dittoria C'è un'altra parte, per esempio, è una dittoria E un'altra parte, è un'intessere di Dzeroub E c'è un'altra parte, quello che ha chiamato 2 Othmane e Shamsaddin Non si noia la hydrologia quindi il numero di dittoria è sicuramente che il rapporto tra i metri suudani e l'insu che è che le fissere nel Pacifico è molto chiaro, perché è diventata in un numero di di immaginazioni e per questo è io per esempio la scelta del Pacifico è da parte della Pacifica Per essere che sceglie le circolazioni Quindi tutto il circolazione atmosferico Quindi si tratta una distinzione in tutti i sceglie In le circolazioni della circolazione E quindi così è vero che la risa è più grande Quindi la risposta è scolle Maio quando la risposta è realizzata Ma non è vero che il metodo E questo è vero che succede Quindi il momento non è vero ma questa è la questione dell'India Notion ma vediamo il rapporto dell'India Notion e il rapporto dell'India Notion e il rapporto dell'India Notion ciò che succede in alcuni giorni è che la situazione è una situazione che c'è un rapporto semplice e il rapporto è molto complesso e complesso c'è un rapporto c'è un rapporto che c'è l'Hindi perché è un rapporto più grande nel Sudano ma vorrei sapere che un rapporto forte è sicuramente un rapporto forte in Sudano ma il rapporto è un rapporto con l'India è un rapporto l'India è un rapporto molto più nel caso di un rapporto una situazione è una situazione fino a passer l'India è un rapporto molto forte l'India ma in Pakistan c'è un rapporto molto più molto forte l'India è un rapporto molto forte questo rapporto ha sono molto più rigido C'è il nostro lavoro e l'impiazio del carbone che stavano molto per l'agglazione del Covid-19 Il corso del aeroporto e tutte le cose che faccio il missione E' un po' di questo, non c'è un problema? C'è un problema che non c'è un problema Non c'è un problema che non c'è un problema Grazie per l'inferso C'è il risultato che è sempre un pochissimo Ma quindi ci sono effettivi Dopo che c'è ancora più di queste thickness Da qui quando ci sono anni Chiede 2080 in un milione Allora se ottenete ogni milione Nel mio Dice anche 280 Nel mio Nei Nel mio Nel mio Vamo al 410 quindi la stagione è 40% quindi la stagione è più grande la stagione è più grande quindi se non si è più grande ma la stagione è più grande poter essere capito è possibile è possibile Buona cosa, grazie. La storia di cui scrivo che in cui il suo lavoro è stato più alto, se si muero da più di più. Questo lo che si tratta di Soudan e Darfur, in un'area di Darfur, è una cassa di un'esbito o di un'esbito. Il risultato che si tratta di un'eigate, o di un'eigate intergovernmental. Abbiamo un po' di Soudan, abbiamo visto il quale che c'è stato fatto, non c'è nessuno di questo E' un po' di questo, non c'è nessuno di questo, non c'è nessuno di questo Ma c'è nessuno di questo, ma c'è nessuno di questo la prima volta che abbiamo dato un problema è che c'è un problema che abbiamo fatto che abbiamo fatto un problema e non c'è un problema che abbiamo fatto un problema Ma le loro domande del corso hanno pensato che il suo lavoro sia migliore ma questo è il momento è che la loro domande ci sono i ragionisti e le loro domande che sono i ragazzi la nostra situazione è la mia vita questo crema dell'amico whatever c'è la situazione non a parlare ringrazi tipo tipo di cosa ma guardate se sono molti persone che vivono in soudan possono prendere la vita di una regola se c'è un paio che le persone vogliono attraversare e non si tratta di fare cose come se sei in Europa e hai un tempo che aveva un tempo in Europa e in Europa e in un paese e che stanno facendo le persone E' un'immagrazione e' un'immagrazione in 10 e' un'immagrazione e' un'immagrazione e' un'immagrazione e quindi ci sono un po' di gioco e quindi abbiamo ancora un po' e quindi la vita di un po' di gioco è una terapia che ci sono stati e quindi la vita è un po' di gioco se non ci si non ci sono e quindi se non ci sono stati non ci sono stati C'è qualcosa di più difficile I've got the planning before the topic and we all think we're straight and we'll make sure that we want to turn it off Did we end up with the idea of the building, the building, our situational tasks or what was it? Faith! Ello, ma'am! God says to you, if you'd moved into the building, we'd also have to turn it back at it at the other hand, it could not turn it back to the true accord the platform was started to turn it back at the original e noi abbiamo un 1.1 nel settembre e possiamo capire di aiutare ma è vero che ci sono stati ed è vero che ci sono stati progettivi Dicottor noi dobbiamo ad amare il mubadere nel bambino e in ultimi anni abbiamo un mubadere e noi dobbiamo fare un mubadere e noi dobbiamo fare noi come abbiamo votato nelle cose Siamo in questo è giudizare la fine del ruote significa che Antonio sono stati facendo C'è un ruote di rилogare prima del ruote che non lo soplette è quello che gli altri hanno chiamati perché è stato messo il censo per il suorio e il ruote Sono in questo ruote che è arrivato in cui la fine del ruote quali abbiamo dovuto dare uno spettare Quindi qui c'è una buona quindi è volto per fare una fine del ruote prima del ruote di rilogare Quattro a guardare E' un po' che si parla inizia a un po' che ti dice Qu'è cosa che ti dice? No, non ho mai problemi Ma anche se inizia a un po' che ha fatto Anche a tutti i nostri gruppi Un gruppo che sono un gruppo di gruppo Un gruppo che sono un gruppo di Sveglia E' un gruppo che mi piace con loro Inizio a tutti i nostri E' un gruppo di gruppo di gruppo E' un gruppo di gruppo di gruppo E' un gruppo di gruppo di gruppo ... ... ... ... ... che ne sono mai belle a che prende il buio, che ne deviava essere in questo senso. Ha, ha, ha. Questo è quello che ho fatto, o che è indietro? Cosa c'è, o che c'è? Cosa c'è? Non metto l'evoluzione. È un pozzo di vacanza. Ma con il post re-approvazione. Ma il posto è un pozzo di vacanza. Ah, ah, ah. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, ah, ok. Cosa c'è? è una era. Ah, no, mi credo che è un pozzo di lavoro. Cosa c'è un pozzo di figlio. Cosa c'è? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti